Il colosso cinese delle costruzioni, la China Construction, ha dichiarato tramite il suo deputy general manager Pei Min Shan di essere interessata alla realizzazione del ponte sospeso sullo stretto di Messina. Già nel 2017 la China Construction ha fornito una soluzione di consulenza progettuale basata sul BIM per il nuovo progetto del porto offshore in acque profonde a Venezia. Nel 2019 ha fornito 4 gru di banchina, 14 gru a cavalletto su rotaia automatizzate e 7 attrezzature per il cantiere per il porto di Vado. Il manager ha sottolineato che spera di poter utilizzare una tecnologia già collaudata nella costruzione di altri due ponti simili per contribuire a promuovere lo sviluppo economico e l'integrazione nel sud e nel nord dell'Italia.